Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gabbo Man, siamo tornati su PES 2016 perché oggi, oltre a essere l'ultimo giorno dell'anno, è giovedì e la Konami dovrebbe aver effettuato l'aggiornamento. Siccome non ci ho avuto tempo di guardare, dammo un'occhiata insieme e vediamo quello che ha introdotto, mortacci loro, hanno lasciato tutto così, ma non ci posso credere. E vabbè, allora ditelo, ma sta gente, cioè io non ci ho pescato un pallone nero manca a pagare loro oggi, che cazzo spacchetto? Eeeh, boh, non lo so ragazzi, ma arrivato a sto punto mi sa che io ce riprovo perché prima o poi un nero mi deve capità. Certo è che se tra un paio dei giorni voglio farlo spacchettamento, lasciano sta gente, io mi sa tanto che vado a pescacco i top perché qua c'è il 13,9 e se non mi ricordo male, se non mi ricordo male, è calacco, gli agenti top addirittura il 15,7%, cioè quindi mi sa tanto che conviene pescacco questi, almeno uno se gli serve in difensore, se va a cerca solo quello. Allora direi che fa proprio così ragazzi, perché tanto se c'è sta quella gente qua, di novità, oggi non hanno introdotto una mazza. Quindi, agente speciale, innanzitutto mi spupazzo sto Italian League e vediamo quello che succede. E poi ci riproviamo per l'ultima volta, quindi, oh mio dio, qua c'è stanno i palloni argento, un solo pallone, un solo pallone nero. Vabbè, però perlomeno è dell'Italian League, chi è questo? Fatte vedere, forza! Ma chi cazzo è? È Domizzi, ma questo me perseguita, e lo pesco su FIFA, e lo pesco su PES, lo pesco da me tutto. Vabbè, italiano, udinese, calcio, 35 anni, 1,85, abbastanza fisico e difesa, per il resto è abbastanza equilibrato, ma niente di esagerato. C'è equilibrio, 81, potenza di tiro 80, 78, abilità difensiva e recupero palla. Poi ci ha colpo di capoccia, rimessa lunga, marcatore, spirito combattivo, vabbè, c'è un po' di tutto, quindi dai. Diciamo che quel 76 è un po' più superiore, perché c'ha parecchi abilità. Aggiungiamola ai membri My Club, e mo' facciamo quattro tentativi, io gli do le ultime quattro possibilità, se mi dai il nero, bene. Se no, io non pesco più con sta gente, quindi, paga con GP, confermamo. Comunque sia, molti di voi mi avete detto che non ci avete pescato un cazzo con sta gente, quindi io schiaccio sul nero tra il primo e il secondo. Eh, no, no, maledizione continua. Questo è un altro pallone oro, un portiere, non ce devo fare un cazzo proprio di quelli esagerati. Questo è Lopez, non mi sembra manco male perché è in 79, eh, portoghese, olympique, lione, 25 anni, 1,84. È un portiere di tutto rispetto, eh. 87 a portiere, 86 a riflessi, 85 elevazione e copertura non è male. Però, sinceramente, io aspetto il pallone nero. Il primo pallone nero che becco, poi scappo, sta gente non lo tocco più. The Five Legends, seconda volta però, terza spacchettata del giorno, vediamo chi è quest'altro. Oh, mai visto una gente così moscio come questo? Che poi il bello è che ce stanno i fenomeni da pescare, ragazzi, però non li troviamo. Quindi, dammi il nero, e dammi sto cazzo di nero, li mortacci vostra, ma guarda che roba, oh. Mi devono far imporre l'ultimo dell'anno, chi è questo? Questo è il cazzi, non ce faccio un cazzo proprio. Olandese dell'Ajax, 20 anni, 1,88, alla prolifica. Vedo una buona velocità di base, un buon dribbling, un buon passaggio, un buon tiro. Fisico da soffiatore dei minestrine, ma non ce ne frega una mazza. Potenza tiro in pente, 83, 82 dribbling e potenza, tiro, passaggio alto, 81. Aggiungiamo ai membri MyClub. La prima volta, comunque, che vedo che c'è stato aggiornamento Konami e ne ha fatto. Eeeh, che cazzo, riprovamoci, riprovamoci ancora, dai, io non mi arrendo per le ultime due volte però, eh. Perché poi, se davvero non pesco il nero, alla prossima, corcazzo che me frega, no? Eeeh, fermate sul nero, ferma, oh, ce l'ho fatta. Dammi il top play, ecco là, è in portiere, sarà una presa per il culo, ma che coglioni. Ma guarda che faccia, ma che cazzo ce devo fare io, Cocco Steel? Me lo dovete di, che ce devo fare? Francese, Stad René, fuck, 28 anni, 1,88. Per carità, è un buon portiere perché vedo pure i passaggi, eh. C'ha fisico, difesa e velocità, leggermente dribbling. Tiro, vabbè, manca a parlarne. Passaggi buoni, però io, ragazzi miei, c'ho Andanovic, ho pescato per in. Che ce faccio, Cocco Steel? Ce faccio una mazza, anche se c'hanno. Vanta di presa che è ottimo, eh. Riflessi 89, meglio me sento. Portiere, e ne spinta, 87. Ce l'ho fatta a trovare il pallone nero, ma naturalmente non è quello che pensavo. Io adesso, adesso, visto che ce l'ho beccato, Sti ultimi 10.000 GP ce li spreco, ragazzi, ma la settimana prossima Io vado sugli agenti top e chi s'è visto, s'è visto. Quindi, non me vado a bruciare GP, naturalmente. Se ripaga con GP, perlomeno a me sembra che con i top è più facile trovare il nero. E poi può essere pure che mo pesco con i top e pesco una cio fecata, eh. Quindi, dammi un altro nero, dammi... Ecco il cazzo, ma quanto te lo dà? Au, aspetta tu che mo magni. Quest'altro chi è? Dai, fatte vedere, su. Guarda che faccia questa... Oh, questo è Vardy! E questo mi piace! Questo è il fenomeno di Premier League che gioca nell'Eister. Ha fatto 200 gol con 10 partite. È un fenomeno, l'hanno fatto un po' a pippetta, ma secondo me questo potrebbe diventare veramente un fenomeno. Oh, inglese gioca nell'Est Milans, che naturalmente è l'Eister. C'ha dribbling, c'ha tiro, c'ha abbastanza passaggio, una buona velocità di base e un buon fisico. Andamolo a guardar meglio. Potenza tiro 79, potenza tirompente 79, 78, 78, abilità offensiva e finalizzazione. Detto questo, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, il mi piace è sempre importante. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Detto questo, non mi resta che auguravi tanti, tanti auguri del buon 2016 a tutti voi. Vi mando un bacetto a tutti quanti, uno per uno, siamo diventati addirittura più di 3600. Quindi vi saluto, il gabbone non si ferma, vi do appuntamento a domani con un nuovo appuntamento. Ah, regà, bella a tutti. Ciao.